Bella a tutti ragazzi e benvenuti, sono Mighty Mars e siamo qui all'angolo sconti Amazon regali di Mercoledì. Allora, come sapete benissimo, tutte le volte che abbiamo delle offerte particolarmente interessanti, adatte ad un pubblico molto molto esigente, noi diamo alito a questo piccolo spazio, ci ritagliamo questo piccolo spazio per voi. Quante volte a voi sarà capitato di avere una rinfrescante bottiglia di birra in mano e non poterla bere perché non avete lo strumento adatto per stapparla, appunto il suddetto a Cavatappi. Ebbene, oggi, oggi, questo dilemma non esiste più. Grazie alla regia con le immagini, grazie, grazie alla Refunding Black, Grey, Green, Palito, Nero, Schwarz, Black, Grey, Green 35U, Questo problema non c'è più. Avete magari tentato più e più volte di stappare la vostra amata bottiglia di birra, non riuscendoci nelle maniere più disparate possibile? Bene, oggi è finito. Oggi, questa epoca, è finita. Voi direte, miei cari internauti, ma questo è semplicemente un infradito. Bene, questo sì, è un infradito, ma è, come potete vedere, anche un, diciamo, un elegante infradito, ma in realtà questo infradito nasconde una piccola peculiarità. Andiamo a vedere. Bene, sì, cari ragazzi, questo è un infradito Cavatappi, ovvero svolge entrambe le funzioni. Se la regia può ingrandire un attimo l'immagine, come potete vedere, sotto la suola di questo elegante infradito abbiamo un'inseratura con una leggera linguetta di metano. Ebbene, sì, questa è un cavatappi. Voi potete infilare comodamente la vostra bottiglia di birra e stapparla. Come potete intendere molto semplicemente, potete unire l'utile al delettevole. Quindi, se la regia manda il filmato, gentilmente. E grazie, la regia, per il filmato. Possiamo vedere anche un'altra versione. Se la regia può mandare il fotogramma, grazie. Bene, come potete vedere c'è anche la versione marrone. Come sempre, è il solito comodissimo apri bottiglia sotto la suola delle scarpe. E come potete vedere, anche l'infradito è un elegante infradito da portarsi ovunque. Anche se adesso siamo nei periodi freddi, immaginatevi di fare una proceda, di fare una vacanza nei paesi tropicali. Bene, questo oggetto è adatto a voi anche in questi mesi che sta facendo freddo. E poi perché non comprarlo anche per prepararsi alla stagione estiva che presto verrà. E abbiamo anche altri colori, come potete ben vedere. Abbiamo il marrone, il nero, il nero e il nero. Bene, quindi perfetto ragazzi. Il prezzo è semplicemente una somma irrisoria. 25 euro, un prezzo a quanto banale, più a soli 110 euro le spese di spedizione. Quindi ragazzi, affittatevi perché questa è un'occasione che potrebbe non ripetersi. Quindi ragazzi, io vi auguro buone feste ovunque voi le passiate. Spero con i prodotti giusti al momento, giusto. Quindi ci vediamo per il prossimo appuntamento. Sempre con Amazon, regali di Merle, colete. Arrivederci e buona serata. Ascorta, ho fatto un servizio e nel servizio non ci hai messo la musica, non ci hai messo un parlato. C'è questo video con questa pirla che mette la bottiglia a scarpa tutta solo, senza niente. Beh, cioè, famosè capì. Uno che inventa la scarpa, la ciabatta, ti inventa la ciabatta con il cavatappo. Ma ti pare normale? Ma ascorta, vai a giro, ci cammini. A giro ci trovi di tutto, tutte le zozumi che ci trovi, il pattume, il piccione cagantela e tutta sta roba lì, te ci struscini. E poi ci infili la bottiglia dove ci fai a bere. Ma te, ma sei scemo o davvero ci fai? Ma ti che te vedi a giro, vesti la merda, non te ne accorgi neanche. E ci infili la bottiglia, poi che fai a bere? Bevi la merda? E ci infili la bottiglia.